Sì, perché ovviamente senza di loro non si raggiungono queste cose, quindi sono contento perché nel gruppo, al di là di certe cose che abbiamo concesso, ha dato un passo in avanti, i ragazzi stanno iniziando a capire quello che vuole il mister, quindi è una vittoria che ci permette di andare avanti e guadagnare qualcosa di positivo. A proposito di capire cosa vuole il mister, cosa ha chiesto il mister alla squadra e in particolare a te cosa ha chiesto alla Zagna? Questa sera avete fatto coppia voi due lì davanti. Siamo iniziando a capire nuovi movimenti, come giocare uno per l'altro là davanti, ci ha chiesto ovviamente di essere concentrati al massimo a tutta la squadra per non dare un calo, per non dare un passo indietro. Io penso che, al di là di che abbiamo concesso per una parte della partita qualche gol, che dovremo lavorarci perché abbiamo un paio di giorni per lavorare su queste cose qua, alla fine il risultato è stato positivo. Siete in tanti lì davanti, il mister ha detto io ho il piacere di avere questo problema, di avere tanti attaccanti, ha fatto un paragone con quello che studiava lì l'anno scorso a Pescara dove aveva difficoltà a mandare in campo un attaccante di ruolo. C'è tanta concorrenza, questo sicuramente fa bene perché ci si allena forse meglio per mettere in mostra le proprie caratteristiche e mettere in difficoltà il mister. Sì, siamo in sei o sette per due posti, quindi c'è una concorrenza sana, i ragazzi si stanno allenando molto bene e ovviamente dobbiamo sempre migliorare e cercare ovviamente di mettere in difficoltà l'allenatore e allora deve scegliere perché adesso arrivano un paio di partite che sono la base fondamentale per il nostro campionato. Arriva il Crotone, arriva il Benevento, dunque come dicevi tu base fondamentale perché sono due squadre ampiamente alla portata dell'Udinese e bisogna far vedere di che passo è fatta la vostra squadra e quale futuro potrà avere. Poi ci sarà anche il Napoli in Coppa Italia, un'altra occasione importante contro una squadra forte in un'occasione in cui magari sulla partita secca può succedere poi di tutto. Sì, sappiamo ovviamente che sarà una partita difficile perché comunque ha un organico molto forte, però oggi ci godiamo questa vittoria qua e poi a partire da domani penseremo già al Crotone che è il nostro obiettivo primario adesso. Il mister ha detto che non gli piaceva parlare di turnover, quindi erano delle scelte fatte, mirate, determinate anche per conoscere alcuni giocatori che lui non può conoscere bene ovviamente perché non li ha mai allenati. Oggi è giovedì, si gioca lunedì. Come state fisicamente? Bene, bene, si sta lavorando molto intensamente, quindi l'importante è che ogni giocatore, cioè qualunque sia che scenda in campo, dia al massimo e cercare di creare un gruppo compatto così possiamo affrontare tutti e due fronti sia Coppa Italia che Campionato. Allora con tre gol si prende il pallone, con quattro è un assist, il pallone più qualche altra cosa oppure sempre il pallone? No, no, penso il pallone andrò ovviamente a festeggiare con la mia famiglia e sicuramente domani con i ragazzi nel spogliatoio.